I Veneti spendono per curarsi privatamente. Anzi, fra le regioni del centro-nord sono quelli che spendono di più e nella classifica nazionale sono superati solo da alcune regioni del sud Italia. A dirlo è una ricerca del professor Maruotti dell'Università LUMSA di Roma che assieme a due ricercatori e a un'università statunitense ha costruito uno studio che mette a nudo tutte le criticità del sistema sanitario. A rilanciare la tematica è la sinistra italiana che sottolinea come in Veneto siano 125.000 le famiglie che hanno speso oltre il 20% del reddito per curarsi, ovvero il 6% del totale dei nuclei familiari residenti in regione. Secondo la statistica il numero è superiore in percentuale a quello della Lombardia che pur in questi anni si è caratterizzata per un forte processo di privatizzazione dei servizi sanitari. Per la sinistra questi dati evidenziano una serie di situazioni, prima fra tutte quella economica delle famiglie perché in Veneto il reddito medio è più elevato di quello di molte altre regioni. Questo potrebbe significare che la spesa reale delle famiglie venete per curarsi è più elevata di molte altre zone in cui i redditi sono più bassi. L'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari ha poi rilevato a luglio come in Veneto sia calato del 10% fra il 2018 e 2022 l'importo dei ticket sanitari pagati dai cittadini. Anche in questo caso un corollario potrebbe essere una spesa sempre maggiore delle famiglie sui servizi offerti da strutture sanitarie. Ed è proprio quello che dicono molti cittadini che si rivolgono alle nostre redazioni per segnalare non tanto casi di mala sanità o problemi macroscopici ma uno stilicidio di piccoli e grandi ritardi nelle visite date impossibili da fissare, telefonate per rinviare accertamenti già prenotati e via temporeggiando con un solo risultato. Chi può va nel privato, chi non può aspetta. Oggi la sanità pubblica Veneta non garantisce più alle persone le prestazioni necessarie e nei tempi utili per tutelare la loro salute. Così molte famiglie si rivolgono alla sanità privata e altri sono costretti a rinunciare alle cure perché non hanno le risorse economiche necessarie per pagarle.